Hai curiosità sulla tua predisposizione genetica all'obesità? MeaMedica ha un test del DNA per l'obesità che può aiutarti a scoprire la tua predisposizione genetica all'obesità. Anche se l'obesità è una condizione complessa e influenzata dai fattori dello stile di vita, la genetica gioca un ruolo importante. Anche se il legame non è sempre evidente, le variazioni genetiche in diversi geni sono state associate a un maggiore rischio di obesità. Ma come possono i geni influenzare il rischio di obesità? Il corpo umano ha meccanismi che regolano l'appetito, segnalando al cervello che non c'è bisogno di mangiare di più, creando la sensazione di sazietà. Questo rapporto analizza i geni coinvolti in questi meccanismi che, quando mutati, possono fare sì che una persona mangi di più o, al contrario, si senta sazia più rapidamente. Questo rapporto include anche geni che determinano la velocità con cui viene scomposta la grasso e le calorie vengono bruciate, e persino geni che indicano se si può trarre beneficio da effetti protettivi contro l'obesità quando si segue una dieta mediterranea. In breve, i geni che sono stati associati a un maggiore rischio di obesità influenzano quattro cose, regolazione dell'appetito, consumo di calorie, formazione delle cellule di grasso, conservazione del grasso nelle cellule di grasso. Avere queste informazioni può aiutare a definire uno stile di vita, scelte alimentari ed esercizio fisico, per una migliore gestione del peso.